Ben tornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. L'anticiclone delle Azzorre abbraccerà gradualmente gran parte dell'Europa occidentale e dell'Italia, proteggendo lo stivale dalle perturbazioni atlantiche che invece saranno deviate sull'est Europa. L'inizio della settimana infatti vedrà il promontorio anticiclonico farsi strada da ovest, ma permetterà ancora qualche lieve infiltrazione instabile per il rapido passaggio di un piccolo vortice d'aria fresca in quota. Ciò apporterà qualche lieve disturbo di poco conto al centro-sud e sulle isole maggiori. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni. Per martedì 21 febbraio. Giornata sostanzialmente stabile con alternanza di nubi e schiarite. Addensamenti più consistenti nelle aree interne della Basilicata, dove non si esclude qualche breve e occasionale fenomeno, soprattutto nel pomeriggio. In Puglia prevalenza di bel tempo con passaggi nuvolosi ma senza fenomeni. Possibile sviluppo di banchi di nebbia dalla sera nelle valli interne. Le temperature, come possiamo notare dalla grafica, risulteranno stabili o in lieve aumento nei valori massimi, con punte di 14-15 gradi. Le minime, invece, saranno caratterizzate da valori piuttosto rigidi. Venti sostenuti dai quadranti nord-occidentali in rotazione dalla sera da ovest. Mari da mossi a poco mossi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Luigi Gaudio che ci invia questa suggestiva foto della vetta del massiccio del Sirino, a circa 2000 metri di altezza. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.